Einstein Telescope è un grande osservatorio per onde gravitazionali di nuova concezione, è una grande scommessa, è una grande avventura europea e in particolare in modo italiana. Einstein Telescope è un'infrastruttura che avrà bisogno di molte altre infrastrutture al suo supporto, per esempio tutto ciò che riguarda l'interconnessione alla rete scientifica. Infatti produrrà dei dati scientifici di importanza fondamentale, che saranno scambiati in tempo reale con tutto il mondo, perché sarà parte di un network mondiale di osservatori. Quindi le attività, i progetti che sono all'interno del PNRR, sia per progettare e disegnare ET, che per realizzare un'infrastruttura di rete in Italia e in particolar modo in Sardegna, sono cruciali per il successo di questa grande avventura. Allora, Einstein Telescope non produrrà una grande quantità di dati. I liveatori onde gravitazionali sono macchine molto particolari, che in realtà hanno uno stream di dati abbastanza limitato, tutto è relativo. AET produrrà poche decine di petabyte l'anno, che non sono molto considerate anche proiettate nel momento in cui sarà operativo. Quello che sarà molto importante è che questi dati devono essere affidabilmente e immediatamente distruiti nel mondo, perché faranno parte di un network di early warning, cioè di allarme immediato per mandare l'informazione ai nostri collaboratori che lavorano nei telescopi ottici, che dovranno puntare i telescopi nella direzione indicata dai liveatori di onde gravitazionali terza generazione, cioè da Einstein Telescope. La cosa molto importante poi sarà invece la parte del computing. La parte del computing è completamente diversa, perché ET necessiterà di grandi faciliti di computing, perché avrà un numero di eventi così elevato e così annidato uno sopra l'altro che richiederà molte nuove tecnologie per analizzare i dati e poi per distribuirli. Sarà molto importante avere una bassa latenza dei dati, un'alta affidabilità dei dati e, come ho detto, il fatto di poter inviare lo stream di dati in molti centri di calcolo distribuiti nel mondo che faranno in parallelo l'analisi dei dati.